Questo sono io mentre percorro quasi 200 chilometri dal Duomo di Milano all'Arena di Verona per portare un regalo mia madre o meglio a bordo del suo regalo Dovete sapere che da quando sono nato lei ha praticamente la stessa bici e tra l'altro io rompevo le mie, usavo la sua, rompevo la sua, insomma a questa età mi sono sentito in dovere di sdebitarmi per la pazienza che ha avuto e qui c'è la sua nuova bici Inizia ufficialmente la nostra avventura Accendiamo la bici, accendiamo le luci e si inizia La prima tappa sarà Duomo Anche se a dire il vero Duomo è più lontano rispetto alla nostra destinazione però insomma è un po' iconica come partenza e quindi faremo una quindicina di chilometri in più Tanto voglio dire un chilometro in più, un chilometro in meno, non è che cambierà molto Eccoci a Duomo, abbiamo fatto i primi quindici chilometri, partiremo da qui e arriveremo a Verona All'incirca sei di sera, quello che voglio sperare ma ho i miei dubbi Ah c'è il giro di pare, totalità No comunque è una bella giornatina, io in teoria volevo partire ieri, cioè sabato Però era tutta settimana che diceva che pioveva Se era anche piogerellina mi sarei anche divertito, cioè sarei andato comunque Però mi diceva che quando partivo la mattina pioveva a Milano e al ritorno quando arrivavo a Verona Pioveva a Verona, quindi ho detto non è il caso E poi che è successo? È successo che non ha piovuto Un classico, io non so, i meteorologi che previsioni hanno del meteo La sfera di cristallo probabilmente potrei farlo anch'io In questo momento sono quasi a Segrate, quindi abbiamo rifatto i quindici chilometri che ci separano E diciamo che da lì inizia la vera e propria partenza Un po' sbagliato Mi ha detto la prima uscita E iniziamo Diciamo che questo non è il periodo migliore per fare queste avventure Però visto che quest'anno non l'ho fatto, l'anno scorso come sapete ero andato a Lugano Lì è stata veramente bellissima perché dava a Svizzera, era tutto pista ciclabile E veramente, oh qua ce n'è una È stata veramente una bellissima esperienza Vedremo come sarà la strada in direzione Verona E si va così, a fianco alla tangenziale A bomba Devo dire che in questo momento ci sono abbastanza piste ciclabili, pensavo peggio Ma qui a Milano ho notato questa cosa Signori, Brescia E adesso è tempo di rifornimento Ho qua qualche panino Bresaula e Filadelfia Arrivati a Brescia Diciamo 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 Allora sono quasi arrivato a Verona Mancano una quindicina di chilometri Ma veramente sono arrivato al limite Sto andando a una velocità tipo nonno Pedalando lentissimo La batteria è praticamente scarica Non mi aiuta più tanto E saranno gli ultimi chilometri Veramente un inferno E poi la sfortuna è che c'era qualche salitina Verso la fine Che ha un po' spezzato il ritmo E vabbè dai Piano piano arriviamo Comunque che bello l'inverno Con il tramonto praticamente alle 4 Veramente bello Desivano Insomma Avvol능are l'inverno WA all'Arena di Verona adesso qual è il piano? mia mamma dovrebbe tornare a casa a momenti andrà in garage con l'auto e io in quel momento passerò pedalando lei mi crede che sono a Milano e voglio vedere la sua reazione buonasera ciao ma si è fetto qua mamma non puoi fare queste cose ma ho preso paura si è fetto a casa ho portato la bici ma ma sei impazzito a parte la paura che mi ha fatto prendere il brutto cretino e si torna in treno con bici giuro eh si ma sa dico ma che cacchio dici tu non vi credo mia si giuro no non è possibile ma sei tu scemo no si drogati mettetele su Instagram oddio che alta eh devo passarla attenta che accelera ciao 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 Grazie a tutti.